le macchinine colorate e la gara sui dossi cosa sta facendo la macchinina blu? sta provando a far rotolare la palla su questo scivolo verde la macchinina verde invece gioca a campana mentre quella gialla e quella rossa giocano sul dondolo vi piacerebbe giocare nel parco giochi con le macchinine? sarebbe bellissimo! macchinine, volete provare una nuova pista per fare una gara? bene! allora dovete prima scalare gli scivoli per arrivare sulla linea di partenza ehi macchinina gialla! aiuti la macchinina verde a salire? brava! bene macchinine! siete pronte a partire? tre due uno via! le macchinine vanno veloci sulla pista di palline e ora attraversano questo percorso con dossi wow! un altro ancora veloci, bravissime altri dossi ancora oh! la macchinina verde è fuori pista bene! adesso dovete aspettare che le vostre amiche vi raggiungono per continuare la corsa in questa parte della gara potete andare solo sui quadratini del vostro stesso colore la macchinina blu può andare solo sui quadratini blu la gialla solo sui gialli oh! macchinina rossa sei finita su un quadratino arancione devi ricominciare da capo le altre macchinine invece possono continuare la gara la macchinina rossa sta avendo delle difficoltà a raggiungere le sue amiche ma alla fine ce l'ha fatta però la macchinina rossa è arrivata al terzo posto anche se era rimasta ultima ecco gialla e verde sono arrivate insieme per cui vincono il secondo posto pari merito e la macchinina blu è stata la migliore congratulazioni hai vinto il primo posto a presto per divertirci ancora con le nostre amiche a presto